Io cercherò di fare un ragionamento che più che esporre, anche perché molti di voi conosceranno la materia sicuramente meglio di me, il contenuto specifico dei vari interventi legislativi, cercherò di ricostruire il filo che ha determinato l'evoluzione della legislazione su questo. Come già diceva Gaetano, il tema della regolamentazione del partito politico rappresenta una sorta di filo rosso che ha attraversato tutta la storia dell'Italia repubblicana. Se ne iniziò a parlare già durante la Costituente, dove autorevolissimi componenti propossero emendamenti, ma anche molto precisi, molto puntuali, tra questi lo citava già Gaetano, Costantino Mortati, il quale peraltro una decina d'anni dopo avrebbe cambiato radicalmente opinione e si dichiarò pubblicamente contrario a qualunque regolamentazione pubblicistica dei partiti politici. Però di fatto le situazioni politiche a cui faceva appunto riferimento Gaetano alla fine non consentirono altro che la redazione di un articolo, l'articolo 49, che è un articolo che da un lato si riconosce il ruolo, l'importanza del partito politico, però dall'altro è estremamente scarno in termini di prescrizioni costituzionali. L'unico elemento è quel riferimento al metodo democratico che peraltro è molto ambiguo perché non si capisce affatto dalla lettura del testo e del resto si sono succedute nella nostra storia interpretazioni opposte, se il metodo democratico debba essere inteso come riferito all'attività interna organizzativa del singolo partito, diciamo democraticità interna è stata qualificata, o viceversa debba semplicemente riferirsi alle modalità attraverso le quali i partiti concorrono alla determinazione della politica nazionale, democraticità esterna. Sta di fatto che quindi è un testo estremamente scarno con un unico riferimento non immediatamente non chiarissimo, non immediatamente precettivo, il che appunto si giustifica per il clima politico in cui fu scritta la nostra Costituzione. La nostra è una Costituzione armistiziale è stato detto, una Costituzione attraverso la quale sostanzialmente è stato redato un armistizio fra i due blocchi politici che erano in conflitto, un conflitto estremamente aspro dopo appunto lo scoppio della guerra fredda all'interno. E quindi in molte cose la soluzione, l'unica soluzione possibile è stata una soluzione di compromesso per cercare di arrivare comunque a un'intesa fra i due blocchi che... Quindi in questa prospettiva la disciplina dei partiti viene lasciata in un limbo, i partiti che acquisiscono progressivamente enorme importanza nella storia della Repubblica, però rimangono ancora con lo status di associazioni private non riconosciute, quasi fossero a qualunque borciofilo, a qualunque circolo di paese, privi di qualunque... ed è paradossale, anche questo è stato detto, che di regolamentazione dei partiti se ne comincia a parlare proprio nel momento in cui i partiti vengono attraversati da una crisi epocale, durissima, che ne rimette in discussione non solo la struttura, non solo il radicamento sul territorio ma la stessa legittimazione politica e culturale. Quindi mentre fino al 1993 noi non abbiamo praticamente leggi che riguardino i partiti politici, le uniche due leggi sono quella che ha istituito nel 74 il finanziamento pubblico ai partiti e quella dell'81 che ha esteso il finanziamento, la contribuzione elettorale anche alle elezioni europee, ma sono due leggi estremamente focalizzate sull'obiettivo finanziamento pubblico e che non introducono nessuna disciplina viceversa. Dal 1993 ad oggi viceversa abbiamo, io ho contato, 13 interventi di rango legislativo che in un modo o nell'altro sono intervenuti sulla disciplina pubblicistica dei partiti politici. E che voglio dire, è un fatto appunto che da un certo punto di vista è paradossale, perché sicuramente il ruolo dei partiti politici nella cosiddetta Prima Repubblica è stato un ruolo estremamente importante e centrale e lì non abbiamo regolamentazione e viceversa quando questo ruolo tende a sgonfiarsi si susseguono una serie di interventi. Interventi di carattere non organico, sia chiaro, anche se in questi venti e passane abbiamo anche approvato due deleghe legislative per la redazione di un testo unico che raccogliesse tutte le disposizioni sui partiti politici, deleghe che peraltro non sono mai state esercitate e quindi sono scadute senza che il testo unico venisse adottato. Dal 1993 ad oggi i filoni sui quali si è sviluppata questa attività legislativa abbastanza intensa sono stati dal lato il tema del finanziamento della politica dei partiti e dal lato il tema della regolamentazione della loro attività, anche se introducendo dei requisiti minimi e non certo una regolamentazione puntuale dettagliata. Sul versante del finanziamento la prima reazione al referendum sul finanziamento pubblico del 1993 fu lo sviluppo del tema dei contributi elettorali. Come sappiamo il referendum del 1993 non aboliva i contributi elettorali, i contributi che lo Stato versava ai partiti come rimborso per le spese sostenute durante le consultazioni elettorali e quindi la prima reazione della politica fu quella di concentrarsi su questo istituto che era sopravvissuto all'ondata referendaria. Concentrarsi sviluppandolo anche in maniera abbastanza impropria, diciamocelo. Venivano riconosciuti i contributi elettorali per tutti gli anni di ciascuna legislatura, anche nel caso di scioglimento anticipato della legislatura i partiti beneficiavano dei contributi che riguardavano gli anni che viceversa non c'erano stati nella legislatura, ma insomma alla fine per un'ondata anche qui dell'opinione pubblica fu deciso di abolire anche questo istituto. A questo punto è nato il nuovo filone di interventi legislativi sul finanziamento dei partiti e della politica che si è sviluppato essenzialmente su due filoni. Da un lato l'introduzione di una disciplina agevolativa di carattere fiscale che consente o una detrazione fiscale d'imposta a qualunque soggetto privato effetti un'erogazione liberale in favore di un partito. Questo è il sistema, il suo strumento attraverso il quale cercare di incentivare, anche con qualche onera a carico dello Stato, la contribuzione privata in favore dei partiti. Più importante è il secondo che veniva citato anche da Ghettano, che è il cosiddetto 2 per mille. Cioè la facoltà dei partiti di usufruire di una quota del gettito IRPEF pari al 2 per mille sulla base di indicazioni, di opzioni che ciascun contribuente poteva effettuare in sede di dichiarazione di reddita. Questo in realtà a rigore è un finanziamento pubblico come quello che fu abrogato nel 1973, perché quelle sono risorse pubbliche. Però di fatto il fatto di essere ancorato e commisurato, perché è anche commisurato nel senso che ciascun partito prende il 2 per mille dei singoli contribuenti che hanno effettuato l'opzione in suo favore. Il fatto di essere ancorato a una manifestazione libera, manifestazione di volontà degli elettori, in qualche misura attenua il carattere pubblicistico, fa sembrare un finanziamento volontario, basato sulla volontà dei contribuenti e quindi indirettamente privato, anche se a rigore così non è. Il secondo filone sul quale si interviene è quello di una progressiva, anche se molto cauta, molto prudente regolamentazione delle attività interne, della disciplina organizzativa dei partiti. Quindi si prevede l'obbligo della redazione di uno statuto che ha alcuni punti di requisiti che riguardano una serie di cose, le più importanti sono il livello di democraticità interna, le misure dirette a favorire un equilibrio di genere all'interno della rappresentanza dei partiti, la trasparenza delle decisioni interne all'organizzazione, uno statuto che diventa condizione per la iscrizione, questa è la seconda novità, al registro dei partiti politici che viene istituito, che, terza novità, viene curato da una commissione di garanzia che appunto viene istituita. La quale ammette alla registrazione solo i partiti che presentino uno statuto che sia conforme alle previsioni di legge. La commissione effettua uno scrutino sullo statuto, ha la possibilità di chiedere delle modifiche che entro un termine perentorio debbano essere seguite dal partito, dal destinatario, ai fini appunto dell'iscrizione al registro. Però l'iscrizione al registro rimane un fatto puramente volontario, cioè chiunque può costituire un partito politico e decidere di non iscriversi al registro dei partiti politici. Qual è la conseguenza dell'iscrizione e quindi anche della non iscrizione? Il fatto che i benefici fiscali che abbiamo appunto evidenziato prima sono condizionati al fatto che il partito sia iscritto al registro dei partiti politici. Questo è un fatto più singolare, secondo me il fatto più importante sul quale concentrarsi. Perché si tratta di una scelta che lascia qualche dubbio, nel senso che è evidente la razza della scelta. Il beneficio fiscale, due per mille, più detrazione a favore dei contribuenti che erogano liberalmente risorse al partito, costituisce un incentivo così forte per i partiti per cui il ragionamento tutti i partiti che abbiano un minimo di consistenza, che vogliono soprattutto coltivare delle prospettive di crescita, di presenza nelle istituzioni e sul territorio, si iscriveranno al registro. In gran parte è stato così, però rimane il dubbio, rimane il dubbio perché la fruizione di benefici di carattere economico è sicuramente un dato fondamentale per un partito politico, ne va della sua esistenza, però non è il suo core business. Il partito politico non è un organismo lucrativo, non nasce per fare soldi, per fare utili, per guadagnare. E quindi è un'attività importante sicuramente, ma sicuramente strumentale e secondaria. Il partito politico nasce per rappresentare le opinioni presenti sul territorio dei suoi militanti, dei suoi iscritti, dei suoi simpatizzanti e per portare queste nell'esiti istituzionale a diversi livelli a cui decidono i partiti di intervenire. Del resto noi abbiamo avuto nella storia anche dei casi di partiti politici molto forti, presenti nel territorio, presenti come numero di voti più che nel territorio, che hanno deciso ultimamente di non iscriversi al registro dei partiti politici. Un importante partito si è iscritto al registro dei partiti politici solo l'anno scorso. Fino all'anno scorso, pur avendo una forte rappresentanza parlamentare, aveva optato per la non iscrizione. E poi c'è il dato che citava anche Gaetano, che secondo me è il più interessante, che sul piano teorico in questo caso, fortunatamente non si è riverificato nulla nella realtà storica che abbiamo vissuto, c'è sempre la possibilità che possa nascere un partito politico che sulla base di disegni oscuri, poco leggibili, con l'accordo anche con forze economiche, semmai straniere, riesca a nascere e che abbia tutto l'interesse, semmai non avendo enormi necessità economiche, perché semmai riesce a foraggiarsi di risorse economiche da aliunde da altra parte, abbia tutto l'interesse a non iscriversi, per non sottoporsi nemmeno a quelli minimi requisiti di trasparenza e democraticità che l'attuale disciplina impone. In questo caso, proprio di fronte a una cosa del genere, che è una sfida che è la più impegnativa per un sistema democratico, la nascita di un partito del genere, il nostro regime legislativo prevede che quel partito sia legibus soluto, possa fare quello che ritiene. Torniamo a una situazione da prima repubblica, in cui il partito era non solo un'associazione privata non riconosciuta, ma non regolata in alcun modo dalle leggi dello Stato. La domanda che poneva Gietano è la domanda più importante, è capire se siamo arrivati al momento in cui finalmente questo lungo filo rosso possa portare ad un risultato organico. Cioè se oggi, anche sulla base dell'evoluzione che il sistema dei partiti ha registrato, dell'indebolimento oggettivo che i singoli partiti... non sia opportuno per gli stessi partiti, come strumento che ne rafforza la legittimazione, la tenuta anche sul piano organizzativo, quella di arrivare finalmente a una legge organica sui partiti politici che sancisca alcuni principi, che possono andare ben oltre quelli che oggi abbiamo codificato, che possono riguardare, ad esempio, tutto il tema della selezione delle candidature per le varie tornate elettorali che ci sono, delle eventuali elezioni primarie, che certo sono una facoltà che è rimessa alla scelta di ciascun partito, che però potrebbero essere disciplinate nella misura in cui il partito opta per questa soluzione. Come primarie aperte a tutti i cittadini che dichiarino di essere simpatizzanti ai sostenitori del partito o come primarie chiuse solo a coloro che siano iscritti o comunque che manifestino una propria volontà, semmai con anticipo rispetto alla volontà delle primarie. Le soluzioni, come sapete bene, meglio di me, sono tante. In questo caso le primarie potrebbero avere alcuni principi che ne garantiscono la trasparenza. In ogni caso, anche se noi volessimo mantenerci all'interno del filone che abbiamo fino ad oggi sperimentato, cioè quello di una disciplina minimale, secondo me la scelta da fare è quella di disancorare l'iscrizione al registro dei partiti politici, quindi la sottoposizione a quel pacchetto di regole minimali che noi fino ad oggi abbiamo introdotto e il controllo della Commissione di Garanzia che la Commissione di Garanzia è effetto sull'aspetto al tema della fruizione dei benefici economici fiscali, 2 per mille detrazioni fiscali. Noi dovremmo ritenere che il 2 per mille detrazioni vanno sicuramente ai partiti registrati, ma che la registrazione debba essere obbligatoria non per fruire dei benefici fiscali, ma ad esempio per presentare candidature a liste, candidature alle elezioni politiche, regionali, europee, amministrative, sopra un certo livello minimo di abitanti, che ne so io. Quindi una soluzione in cui si ancora l'iscrizione al registro dei partiti politici e tutte le conseguenze, sia benefiche, ma sia di garanzia e di trasparenza, che noi oggi prevediamo, ha una scelta che è quella del partito, di far contare la sua voce in una sede, che è quella, la primaria, il core business del partito e la formazione delle rappresentanze nelle varie sedi istituzionali. Questo, e qui chiudo veramente, sarebbe secondo me il modo per dare un minimo di attuazione all'articolo 49, che non è uno di quegli articoli che rimandano a legge di attuazione, come noi sappiamo, che però comunque è un articolo che fisso un principio, quello del metodo democratico, che noi oggi, dopo una lunga evoluzione, abbiamo ormai decisamente interpretato come democraticità interna, che finora ha avuto una traduzione legislativa solo, parziale e non sempre del tutto coerente. E qui mi taccio.